Let's go butchers e benvenuti a questo breve tutorial sul PVE Sono Paolo il vostro guardiano cacciatore preferito in questo caso Sono qui per spiegarmi la mia build PVE dei miei talenti e comunque di quelli che sono i perk e ovviamente l'equipaggiamento che uso Come vedete è una build prevalentemente incentrata sulla forza, ora non ho messo bene i perk attualmente tutto su un forza Ma ovviamente io preferisco giocare con la forza perché utilizzo le impugnature sigillate degli Ankara Che mi permettono di avere ovviamente due obilità corpo a corpo e di avere energia corpo a corpo aggiuntiva Ovviamente è ottima questa cosa perché può anche ricaricare le armi primarie e ovviamente posso dare colpi milì più velocemente La mia build, il mio equipaggiamento si basa su avere un casco che comunque mi fa ricaricare Le sfere di luce ripresi nella legislazione dello scudo mi fanno ricaricare lo scudo più velocemente quando raccolgo una sfera di luce E oltre a questo attraverso le uccisioni, le mostri dell'oscurità o comunque dei nemici che non sono guardiani Acquisisco più super energia quindi in questo caso evito di dovermi pompare l'intelletto Per il resto ho una build in centrale data su disciplina forza e solamente questo E poi parliamo delle armi come armi utilizzo il giustizia negato SR4 di cui avete visto già il video Riguardo comunque una delle migliori armi per il PvE Fortissimo per il fatto che ha libellula perché ha ovviamente triplo colpo, ha una stabilità enorme eccetera eccetera In più utilizzo il fuso martellante o comunque cambio queste armi a seconda dell'evenienza Utilizzo se non utilizzo il fuso martellante perché sapete tutti che è fortissimo il fuso martellante Utilizzo lo spezzacuiete Per quanto riguarda le terziarie utilizzo il declino di Kulim Che secondo me è una delle armi più forti del gioco Questo mitraglione è incredibile Poi ho comunque questo perk che tre uccisioni rapidi ripristano un po' di vita e avviene il recupero della salute Ha 42 golpi, ha un'ottima cadenza, un'ottimo impatto, un'elevata stabilità Quindi è ottimo questo mitraglione Però lo scambio ogni tanto con il simulatore dormiente che magari mi può aiutare negli assalti per shottare i mob più velocemente O comunque per cercare di fare diciamo più DPS sui boss che magari si muovono e non possono fermarmi a sparare con il black spindle Comunque passiamo ora ai talenti che è quella che è la parte più fondamentale Come vedete gioco con armatura massima, recupero un pochino più basso e agilità un pochino più alta Allora cominciamo subito a parlare di questi talenti Per prima cosa utilizzo il muro a vuoto che è utile per zonare, sponchillare mob che ascono dalle porte E comunque fa un elevato danno e ci potrete comunque stare sopra e non prendere danni e fare danno agli avversari In questo modo triggererà con medicina mortale che aumenterà il recupero comunque del vostro personaggio Utilizzo controllo migliore perché come sapete è sempre il miglior modo con il cacciatore per saltare eccetera eccetera Buconero, si buconero è ovviamente il più forte perché l'ancora del vuoto è una maggiore gittata Dura molto più a lungo e può incatenare più bersagli quindi fortissimo questo talento secondo me E qua invece vedete uso volatilizzazione ma non è vero Ovviamente il migliore da usare secondo me è intossicamento che aggiunge una tossina che danneggia i nemici colpiti dal fumogeno Volatilizzazione è utile in determinate situazioni ma io preferisco ovviamente intossicamento Scusate ragazzi mi sono dovuto allontanare un cavaliere stava cercando di cecchinarmi a distanza qui sull'astro corazzata Perché intossicamento? Perché intossicamento in combinazione con questo perk che è vigilanza Gli effetti delle granate di fumogeno durano il doppio per un miglior controllo del campo Allora per prima cosa grazie a questo perk quando tirerete un fumogeno addosso un nemico non solo prenderà danni Ma l'effetto del fumogeno con il veleno è quello di blindare gli avversari cioè accecarli, renderli disorientati E quindi vi dà la possibilità di non farvi sparare da grandi gruppi di nemici che lo preferisco a diventare invisibile Perché avendo due granate posso tirarlo da due gruppi di nemici e poi cominciare a sparare dentro, tirare una granata e così via Secondo me è molto forte Qui via sconosciuta, addestramento incentrato su recupero in battaglia e resistenza Ma è il migliore da usare perché armature e recupero sono fondamentali alla fine L'agilità la possiamo anche schippare su questo diciamo talento, su questa 3D talent che è il predatore della notte Qui perché non uso luce del branco come fanno tutti che uccide dei nemici incatenati grazie a sfere di luce per i due alleati Perché le sfere di luce che produce attraverso luce del branco sono sfere di luce piccole Quindi che non ricaricano abbastanza la super in fretta E ok forse in un ride se fate 100.000 sfere va bene ma in questo caso non avendo luce del branco Le sfere di luce che farà il vostro arco del predatore della notte saranno molto più grandi, saranno molto più capienti come si può dire E quindi ricaricheranno molto più la barra della super anche se ammazzerete pochi nemici in questo caso Qui ovviamente via dell'intrepido perché via dell'intrepido potete vedere benissimo Abbassa solamente l'armatura quindi addestramento incentrato sulla resistenza ogni costo che aumenta l'armatura al massimo Ed evita che vi scoppino con un colpo essendo cacciatori veramente morbidi come si può dire in pv Per quanto riguarda l'ultimo perk perché non utilizzo ricognizione a canita? La ricognizione a canita non è molto utile in pv è prevalentemente un perk da pvp Per scoprire dove sono i nemici, quello che vogliono fare eccetera eccetera Invece schivata dell'ombra è un perk ottimo Io lo sottovalutavo tantissimo, pensavo fosse una cavolata Invece sia in pv che in pv sono fondamentali per questa sottoclasse Prevalentemente perché grazie alla schiata dell'ombra potrete spostarvi dietro a dei ripari velocemente Potrete muovervi attraverso comunque un movimento molto veloce laterale all'indietro Che vi consente di non perdere tempo a girarvi, cominciare a correre, fare il doppio salto per eludere E tra l'altro è un movimento comunque a terra quindi non dovrete rimanere in volo o altre cose Molto utile, molto buono da usare pure se vi stanno caricando dei nemici per scattare subito all'indietro O scattare in mezzo dato che la schivata dell'ombra i nemici sembrano proprio non targettarvi E come sapete già quasi tutti quando vi sparano le palle dei cinturioni corrotti O comunque altre mosse che inseguono perdono il target attraverso schivata dell'ombra E perfino i lanciarazzi che hanno rintracciamento perdono il target Quindi ragazzi è un perk fondamentale, ricordatevi di usarlo Spero vi sia piaciuto questo video ovviamente sui miei talenti per il pv Non penso serva che vi facci vedere dei gameplay Penso che avete già visto comunque qualche mio gameplay di come uso queste cose Eppure perché, non lo so, il mio world record, quello mio e del team è stato visto tantissimo Quindi spero che molti abbiano capito come giochiamo a fare queste cose Infatti guardate qui come sto utilizzando la schivata dell'ombra, veramente forte Praticamente grazie a schivata dell'ombra potrete schivare tutto velocemente Io spero vi sia piaciuto questo video Spero che mi continuate a seguire e aspettate il prossimo video Anzi i prossimi video Che saranno incentrati prevalentemente sul pvp Quindi sui talenti per il pvp Quali mettere, come metterli, come giocare Qual è la differenza tra giocare crogiolo 6 contro 6 e osirite 3 contro 3 Perché ovviamente i talenti cambieranno anche in base alla modalità E come rispondere per esempio alle altre super Diciamo alle varie super abilità degli altri avversari E così via Comunque guardate schivata dell'ombra quanto è forte Mi permette di uscire sempre da situazioni complicate Io spero che mi continuate a seguire Che i video sul pvp ovviamente vi piacciono Io vi consiglio di andare a vedere il video della Red Bull Sulle armi primarie che sono incredibili e fortissime Che potete acquisire facilmente in torre Io vi saluto, butchess Ci becchiamo al prossimo video Let's go